Buongiorno, sono Emanuela Donetti e volevo presentarvi in 30 secondi il contest internazionale WEC 2.0 organizzato dall'associazione waterfront.org. Se volete partecipare a un'esperienza internazionale in territorio elvetico e in mezzo a studenti provenienti da tutta Europa, potreste partecipare al congresso internazionale di ingegneria che si terrà a Ginevra il prossimo settembre presentando il concept per un arredo urbano che generi energia all'associazione waterfront che organizza il contest internazionale WEC 2.0. Potreste partecipare gratuitamente ai corsi dell'esclusiva Université d'Etat di Verdun-les-Bens a due passi da Losanna e da Ginevra. Vi basterà creare una squadra di tre studenti dalle facoltà di ingegneria, design e scienze ambientali, trovare un docente disposto a seguirvi e lasciare spazio completamente alla fantasia. Ci bastano panchine solari, lampioni a paleoliche, ci aspettiamo tre pagine a quattro descrittive del progetto e due pagine a tre con piani, grafici e disegni. Fate attenzione perché la scadenza per le iscrizioni è il prossimo 2 giugno, mentre avete tempo fino al 7 di luglio per presentare tutto il progetto. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet www.waterfront.org Grazie 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 Grazie